13esima edizione di Oil & Non Oil, una fiera che si occupa di energia, carburanti e servizi per la mobilità. Adesso ci troviamo allo stand della Errema e stiamo per intervistare Mirko Temporiti, amministratore dell'azienda che si trova a Corsico, in provincia di Milano. Salve, benvenuti, buongiorno a tutti. Siamo stati fondati nel 1977 da mio padre. Da allora il mondo, il nostro mercato è evoluto in maniera forte e il nostro forte è essere una società di servizi che dà un servizio a 360 gradi al cliente che può trovare presso di noi un portafoglio, categorie merceologiche e articoli veramente ampio che gli permette di realizzare una stazione di servizio e o fare la manutenzione, sezione di servizio o deposito, perché poi, come vedremo dopo, abbiamo anche tante novità per i depositi di carburante. E qual è la vostra filosofia aziendale? La nostra filosofia aziendale è di avere il massimo rispetto per la nostra clientela, di trattarla col massimo della trasparenza, tant'è vero che noi siamo rivenditori esclusivisti con contratto piuttosto che no di tantissime aziende leader del settore con le quali collaboriamo in simbiosi, trattiamo i ricambi esclusivamente con gli stili ufficiali delle case madre, quindi da qui la trasparenza nei confronti del cliente, il cliente che vedrà sempre sulla fattura il prezzo chiaro, lo sconto chiaro, i termini di pagamento pattuiti e insomma siamo una realtà che appunto dal 77 si affaccia su questo mondo, gli attori, i protagonisti sono sempre gli stessi perché i miei collaboratori sono da più anni del sottoscritto che sono insieme a NERREMA, insomma il cliente finale sa con chi sta parlando, sa con chi andrà a trattare e sa che siamo una realtà consolidata e conosciuta e positivamente inserita nel nostro mondo. Secondo me sono aspetti importanti, faccio un esempio, il nostro numero di telefono, il nostro numero di cellulare è 30 anni che è quello, sembra una sciocchezza ma in un mondo di continua evoluzione ogni tanto un po' di certezza aiuta. Siete un punto di riferimento quindi per tutta una serie di operatori del settore? Sì, bravissima, ecco, noi nel 90 abbiamo stretto una collaborazione con Nuovo Opinione e siamo diventati i loro rivenditori unici per quanto riguarda i ricambi dei distributori di carburante. Questo cosa ci ha permesso? Questo ci ha permesso di entrare in contatto con tutte le ditte di manutenzione e di installazione i presenti in Italia. Allora erano un numero veramente importante. È da allora e forti di questa conoscenza che abbiamo poi introdotto delle novità, abbiamo ampliato il portofoglio prodotti rimanendo sempre collegati con tutte le realtà che sono rimaste operative e attive nel nostro settore. So che un vostro fiore all'occhiello è il servizio di pre e post vendita. Certo, assolutamente, la ringrazio. È un servizio di cui andiamo fieri. Noi non abbiamo nessun tipo di problema a fare offerte alla nostra clientela senza che le offerte vengano obbligatoriamente trasformate in ordine. Non abbiamo problemi ad andare a visitare il cliente, non abbiamo problemi a mandare materiale informativo, dei brand brochure. A noi piace avere rafforonto quotidiano con la clientela perché ci dà anche un po' l'umore del mercato, le richieste del mercato e quando si dovesse concretizzare in ordine abbiamo un servizio di post vendita che è poter garantire garanzia, poter garantire consegni in tempi rapidi, poter garantire sempre una persona a disposizione di quella realtà per poter avere un feedback immediato. Non abbiamo problemi a riprendere indietro il materiale se erroneamente spedito. Insomma, noi siamo flessibili. Quali novità avete portato a Oil Non Oil? Che cosa presentate? Presentiamo, grazie per la domanda, presentiamo tante belle e interessanti novità. Noi abbiamo sempre trattato i ricambi dei distributori di carburante come nostro core business. Negli ultimi anni abbiamo cercato di ampliare il nostro portafoglio prodotti e le categorie merceologiche trattate. Abbiamo anche stretto dei rapporti di rivendita in esclusiva con contatto con aziende straniere di altissima qualità per permettere alla nostra clientela di trovare e di provare nuovi prodotti che altrimenti non si sarebbero affacciati sul mercato italiano. Qui a Oil Non Oil presentiamo i gruppi di pompaggio della Encam. La Encam è una ditta greca fondata anche lei nel 1977, anche lei ha gestione familiare un po' come lo siamo noi. Realizza delle pompe che possono essere in ghisa o in acciaio inox che possono essere da 2, da 2 pollici e mezzo e da 3 pollici che garantiscono portate da 86 a 1240 litri per minuto che in questo caso sono assiemate insieme a un motore che è di origine italiana perché sono tra i motori di maggiore qualità il tutto installato su un basamento per poter effettuare il travaso di liquidi ad alta portata. Il gruppo elettropompa può essere inoltre ordinato in altre configurazioni, in versione carrellata per esempio e con il contatore meccanico della Total Control System assiemato in una versione full pronta a leggere anche il prodotto. I contatori volumetrici della Total Control System è un'azienda americana, leader in America. i contatori possono essere ordinati in varie configurazioni quella qui esposta è la configurazione completa quindi vi sono presenti ovviamente il contatore il filtro degasatore, la testata meccanica che può essere anche elettronica il preset e la valvola preset. Le portate possono variare da circa 200 litri al minuto fino a circa 4.000 litri al minuto per delle dimensioni che vanno da un pollice e mezzo fino a 6 pollici. Novità assoluta per questa fiera e novità anche per il mercato italiano i bracci di carico della Gasso. La Gasso è un'azienda spagnola che è stata fondata più di 150 anni fa. A capo vi è ancora la famiglia Gasso è la quinta generazione che è al comando di questa azienda ed è un'azienda che conta più di 200 dipendenti che ha svariate sedi in giro per l'Europa e che dà alla certezza del proprio prodotto e questo è riscontrabile nel fatto che vengono dati 5 anni di garanzia quindi chiunque dovesse acquistare un braccio di carico Gasso tramite l'EREMA che è il dealer unico ufficiale per il mercato italiano ha 5 anni di garanzia. Mobilità del futuro stiamo già cercando di guardare in quella direzione e per questo motivo abbiamo stretto una collaborazione con la FON è una realtà francese che produce tutto in house di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici e o ibridi plug-in. La FON produce, e questa è una cosa molto importante sia le versioni in corrente alternata da 22 kW e soprattutto le versioni in corrente continua da 50 kW Thermoflex è la tubazione flessibile non metallica per il trasporto del GPL è un articolo che noi commercializziamo dal 2009 ha 10 anni di garanzia e 30 anni è la vita media se correttamente posato questi aspetti fanno capire che siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità e di altissima efficienza e durabilità nel tempo noi siamo i dealer per il mercato italiano è un prodotto realizzato in America ed è stato rivoluzionario e lo è ancora perché pensate prima gli impianti di carburante per GPL venivano realizzate con tubazioni in acciaio saldate in doppia parete quindi costi e tempi molto lunghi per quanto riguarda la realizzazione degli impianti stessi con questa tubazione si arriva sull'impianto si infila all'interno del corrugato si allaccia, si pone a testa di tenuta e il gioco è fatto tengo a precisare un aspetto molto importante l'RM è sempre stata super part noi siamo una mera società di servizi che acquista e rivende non effettuiamo installazione non effettuiamo manutenzione sugli impianti di servizio in un impianto di distrazione del servizio carburante sui depositi questo ci rende un po' come la Svizzera neutrali e ci permette di essere apprezzati da tutti grazie a Mirko Temporiti di Errema grazie a voi spero di essere stato di aiuto di aver presentato Errema in maniera soddisfacente e chiara ma rimaniamo sempre a disposizione per essere contattati e potervi aiutare in merito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti